PABLO GIULIANO Ciao, questo è Pablo Giuliano, responsabile per l'Israele NEC. Siamo felici di attendere AVTLV per il secondo anno. Ora presentiamo la nostra soluzione in live format display. In particolare, questo è il nostro nuovo modulo di 46", con il modulo di Raspberry Pi, che sarà disponibile in un mese. Stiamo proporzando al mercato diversi determinate in termini di media player. Questo è il nostro focus per il nuovo anno. Grazie mille. Grazie mille.